ciao a tutti e bentornati alla nostra rubrica è tutto chiaro sapete cosa significa l'espressione prendere due piccioni con una fava è un'espressione idiomatica molto usata in italiano ma per capirne il significato bisogna sapere cosa significano le parole fava e piccione la parola piccione indica quegli animali sono degli uccelli che spesso potete trovare in alcune piazze italiane osservate questa foto qui sono io in una piazza famosa che piazza san marco a venezia tanti anni fa e con tanti tanti piccioni invece la fava che cos'è la fava è un ortaggio che noi in italia mangiamo sia cotto che crudo allora cosa significa prendere due piccioni con una fava significa che otteniamo due risultati positivi con un unico sforzo cioè facciamo una sola azione e riusciamo a raggiungere due obiettivi ma da dove viene questa espressione idiomatica in realtà ha origini molto antiche poiché in passato si usava a catturare i piccioni o i colombi selvatici con delle fave si mettevano delle fave in una gabbia e ovviamente se arrivavano due o più piccioni si riusciva ad ottenere un risultato migliore ma vediamo come si usa questa espressione idiomatica nella lingua nella lingua italiana facciamo qualche esempio domani devo andare a fare shopping però mi chiama una amica e mi dice che mi vuole vedere perché deve assolutamente parlarmi allora io invito la mia amica a uscire con me in modo tale che andiamo a fare shopping ma allo stesso tempo lei può parlarmi così ho preso due piccioni con una fava un altro esempio sono a dieta e non posso mangiare dolci come torte tiramisù o gelati ma posso mangiare la frutta e la verdura allora quando ho bisogno di dolci mangio una bella fetta di melone il melone mi piace moltissimo è dolce ma non fa ingrassare è tutto chiaro anche nella vostra lingua c'è un'espressione simile a questa scrivetelo qui nei commenti